Una vigilia di matrimonio da ricordare per una giovane coppia di Simbario nel Vibonese. La scorsa notte una bomba ha danneggiato la casa in cui viveva lo sposo con la sua famiglia d'origine. Fatto che tuttavia non ha impedito le nozze. Diversi tuttavia i danni causati all'abitazione dall'esplosione nella quale per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia di Serra diretti dall'ispettore Giovanni Cosentino. Le indagini si concentrano sulla vita privata dei coniugi. Non si registrano miglioramenti significativi ma a giudizio dei sanitari non sarebbe in imminente pericolo di vita. Concordia Armano, la giovane di 25 anni di nazionalità romena residente a Parma che due giorni addietro, tuffandosi in mare a Ricadi, in località Baglia di Riaci nel Vibonese, ha battuto la testa contro uno scoglio procurandosi gravi lesioni cerebrali. La ragazza è ricoverata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale pugliese di Catanzaro dove era stata trasferita in elisoccorso dopo il terribile incidente. Buona parte della città di Cosenza è rimasta a secco nel pomeriggio di ieri per la rottura di un acquedotto. La notevole perdita nell'impianto ha provocato la momentanea interruzione dell'erogazione idrica. È il centro storico cittadino la zona maggiormente interessata dal disagio. Gli operai municipali sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina tuttavia per riparare il guasto e risolvere il problema nell'arco di questa giornata. 85 dipendenti sono stati licenziati dalla società di call center Tele in Sud di Rende che svolgeva attività di marketing per una nota industria di Cosmesi. A chiarirlo CGL ed UGL in una nota durissima che sottolinea come alla fine abbia avuto alla meglio la logica del profitto incentrata nella ricerca esasperata della riduzione della retribuzione dei diritti quale unico strumento per competere e distribuire lavoro. Un incendio è stato appiccato sulla collina posto allo svincolo tra Altilia Grimaldi e San Mango d'Aquino sulla autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono giunte alcune squadre dei vigili del fuoco e dell'ANAS che sono riusciti a domare le fiamme ed evitare che il rogo potesse espandersi. L'incendio tuttavia non ha creato disagi alla viabilità. Il transito nel tratto cosentino interessato dal rogo procede regolarmente.